Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Rozza, bentornati sul canale. Oggi, ragazzi, nuovo video degli acquisti fumettosi, o, se vogliamo ormai essere più precisi, acquisti manga, perché ormai prendo più manga che altro. Però, lo sapete, magari i miei vado sempre un po' a periodi. Cioè, periodo manga, periodo kart, dove periodo feudo sono un po' più fissato. Adesso sono un po' più fissato con il recupero manga, soprattutto perché sto recuperando dei pezzi importanti che mancavano, ovviamente, nella mia collezione. Ovviamente, ragazzi, se non siete iscritti al canale, è giunto il momento di cliccare in basso a destra per supportare i miei contenuti. Ovviamente, mi potete anche seguire su Instagram oppure sul gruppo Telegram, dove comunque vi do news, vi do gli avvisi su quando sono usciti i video sul canale. E ovviamente, mi potete anche iscrivere privatamente se non volete commentare sotto nei video. Comunque, ragazzi, oggi questo è il malloppo, ma ce lo vediamo dopo la sigla. Allora, ragazzi, eccoci qui. Allora, non sono tanti fumetti, in realtà, più che altro perché alcune cose non le ho prese o comunque le ho prese in ritardo. e magari ve le mostro poi ad aprile. Più che altro perché avete esempio Dandadan, ragazzi, o Teseo, che ovviamente escono a fine mese, li recupero per aprile. Quindi, solito, un po' il solito concetto. E andiamo a partire. Partiamo, ragazzi, da quelli che non sono i mangi. I mangi li lasciamo per ultimo. Ho un recupero, un recupero Disney, quindi con i paper dollari, che c'era all'interno il dollaro di Gastone che mi mancava per la collezione. E niente, è un volume, appunto, che ho preso sul sito Panini con le storie, appunto, di paperone. Qua abbiamo un papero da 10.000 dollari, banca nota da un miliardo, zio paperone di antidollari. Quindi tutte storie a tema dollari con, tipo, quelle che sono raccolte, appunto, della Disney. Qua c'era i 10 dollari di paper dollari di Gastone. Mi mancavano, perché non avevo mai trovato sto volume. E quindi l'ho recuperato. Poi passiamo, ragazzi, a sempre di Panini, però porto Asterix e il Grifone. Ragazzi, fumetto francese di Asterix e Obelix, di Goscenny e Uderzo. Ovviamente testi di Ferri e di disegni di Corrad, ormai. Questo è il numero 39. Dovrebbe anche essere l'ultimo della raccolta a dia del fatto che è uscito il film al cinema e dovrebbero aver fatto anche nuova raccolta. Comunque vi consiglio di leggervi di Asterix e Obelix. Soprattutto ci sono formato. Questo è cartonato, però ci sono anche quelli brossurati. Io preferisco il cartonato che non è male. Questo ha il prezzo di 9,90 euro. Quindi figuratevi. Guardate i disegni che sono, secondo me, molto belli. Da questo punto anche la colorazione. Poi tra l'altro sono fantastiche perché sono veramente vive le vignette anche delle nuvole dove ci sono i dialoghi con proprio tematiche. Una cosa bella di questo fumetto, ad esempio, che al di là che i romani vengono parodizzati con il romano moderno più qualche tocco di latino, è che i popoli barbari hanno proprio le... ad esempio, hanno proprio le pronunce barbare. Quindi fantastico da questo punto di vista. Super consigliato. Se non avete mai letto Asics Obelix, poi dopo farò un video particolare su dove potete approcciare i migliori volumi che mi sono piaciuti di più. Per cui fatemelo sapere ovviamente sotto nei commenti. Andiamo finalmente con i manga e smarchiamo questo. Smarchiamo subito Saint Seiya e Cavalieri la Final Edition numero 4. Proseguono le battaglie appunto tra i Saint... tra i bronze quindi gruppettino di Seiya contro Ikki di Fenix e poi arrivano finalmente i Cavalieri d'Argente. Quindi in questo volume scontro. Ragazzi, io comunque questo formato lo sto apprezzando nonostante ho detto tipo nel video dei migliori di manga questo lo classificherò anche se di formato avrei preferito forse a grandezza 15x21 classico soprattutto in realtà che il 15 non mi interessa ma che sia il 21 d'altezza in modo tale di averlo poi purtroppo questo è leggermente più piccolo dovrebbe essere 18 di altezza però diciamo che è un formato super consigliato se non avete mai letto i Cavalieri dello Zodiaco al momento anche se ragazzi può essere che non vi piaccia molto lo stile di Kurumada poi passiamo agli ultimi alle bombe quindi andiamo proprio su questo qua abbiamo ragazzi recupero dal 4 a 7 di 20th Century Boys ragazzi del capolavoro di Naoki Urasawa sono un po' in fase di ritardo anche perché poi è già uscito il numero 11 quindi l'ultimo numero e poi dovrà uscire addirittura anche 21st Century Boys che è il sequel che verrà raccolto in un volume unico ragazzi se non l'avete mai letto è un manga consigliatissimo a parte ragazzi che la trama prevede appunto quella di di un gruppettino di amici che poi si ritrova a dover salvare il mondo contro chi? contro moon cattivo che sta usando praticamente il piano che avevano ideato questi ragazzini quando erano dei bambini quindi immagino che tutti voi vi siate fatti un gruppettino di amici io ce l'avevo appunto e facevano questi piani tipo piano di conquista del mondo piano di salvare il mondo questa è la storia reale storia reale questo succede in 20th century boys ma veramente Urasawa pur mischiando anche le linee temporali è fantastica cioè lo prendete ve lo leggete tutto di botto io tipo me lo sono divorato nei weekend che mi mettevo lì lo leggevo boom cioè voglio cioè quasi spero che non finisca addirittura in realtà finisce a breve quindi storia incredibile formato bello anche guardate come sono belli i colori poi ragazzi ve l'ho fatto già vedere nel video sono veramente belle le copertine a dia del fatto ragazzi che i disegni di Urasawa sono secondo me fantastici un mangaka veramente secondo me è tra i miei preferiti ormai e follia che l'ho recuperato solo adesso però meglio tardi che mai anche perché comunque ho letto qualcosa ma non tutto e soprattutto 20th century boys si sta cani d'anno tra i miei manga preferiti niente ragazzi per questo video è veramente tutto ci vediamo poi con i prossimi video ovviamente fatemi sapere sui consigli come al solito Leo mi spiace ma ancora una volta non sono riuscito a recuperare la regina d'Egitto che sembra introvabile anche in fumetteria il numero uno non ce l'hanno quindi dovrò mettere armami di pazienza e ordinarlo online però va bene così un saluto a tutti ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao